Francesco Giorgini al suo Giulianova non poteva dire di no, di nuovo in campo e di nuovo al lavoro. Sì, io sinceramente non ci pensavo più minimamente, anche perché ricoprivo un ruolo diverso, mi stava anche appassionando di cercare di riorganizzare sia il settore giovanile che le scuole calci e Giulianova, su cui ci siamo riusciti e anche il Cologna collabora con noi. Dopo adesso c'è stata questa chiamata, è normale, ci ho riflettuto molto, adesso iniziamo questa avventura e vediamo dopo in seguito come va a finire. Il nome di Giorgini è stato sempre associato al Giulianova anche nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, la scorsa estate, l'anno scorso. Cosa l'ha convinta questa volta ad accettare rispetto alle altre volte? L'ha convinto perché già da parecchio stavo sempre a rifiutare, ma non volevo più allenare anche questo, però dopo adesso gli serviva, se no dovevano prendere un altro, adesso ci provo, vedo come è la situazione, se no lascio perdere, però attualmente è normale, io mi impegno questo senza dubbio, devo vedere anche il livello di stress, se la situazione è qua, solo questa. La società per questa stagione a Francesco Giorgini cosa ha chiesto? L'obiettivo salvezza, playoff, campionato tranquillo? No, Giulianova è il primo obiettivo attualmente, per come la squadra è normale, deve pensare a salvarsi. Dopo è normale che uno, se arrivi al prima possibile la salvezza, si punta subito agli altri obiettivi. Domenica questo battesimo di fuoco, lo possiamo chiamare così, non facile, ha scoppito contro la Mternina che è squadra notoriamente ostica sul proprio campo? Io penso che le partite in tutte le categorie, le partite facili, non esistono. Io penso che alla base di tutto una squadra deve avere il proprio gioco, cercare di dare il massimo, ma dopo se è una squadra superiore è uno tanto di cappello.